Il cloud computing è una grande possibilità per le nostre amministrazioni pubbliche e per le imprese. Sono delle possibilità ma bisogna regolare bene ciò che accade. È importante che venga delegati a terzi funzioni dell'impresa o della pubblica amministrazione e però bisogna essere certi ad esempio che i dati personali che vengono dati al cloud provider vengano trattati secondo regole di diritto in modo da evitare compromissioni. Gli elementi più critici legati al cloud computing che è ripeto un elemento importante di modernizzazione nel nostro paese sono la disponibilità e l'accesso dei dati, la contrattualistica legata ad esempio ai service level agreement cioè gli elementi specificamente tecnici del contratto tra il cloud provider e poi l'utente. Quindi bisogna regolare bene le responsabilità, bisogna sapere che fine fanno i dati che finiscono nella nuvola bisogna accertarsi che questi dati non vengano mal utilizzati.